Un centro di ricerca e cura che è una vera eccellenza realizzato con le libere donazioni dei cittadini. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi al termine della visita ufficiale a Candiolo presso la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, centro di eccellenza dedicato alla promozione della ricerca scientifica nel campo dell'oncologia. Una fondazione e un istituto di ricerca fiora l'occhiello nel cuore del Piemonte con un esercito perché abbiamo visto i numeri importanti della fondazione costantemente tutti i giorni fanno ricerca per debellare questa piaga che negli ultimi anni è sempre più penetrante nel tessuto sociale e sanitario del Piemonte. Il Presidente del Consiglio è stato accolto dalla Presidente della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, Alle Granielli, dal direttore Gianmarco Sala, dal direttore generale dell'Istituto Salvatore Nieddu e da Anna Sappino, direttrice scientifica. Noi ci sentiamo una grande famiglia, in questa grande famiglia ognuno ha il proprio ruolo e lo svolge in maniera, direi non le dico perfetta perché nessuno è perfetto, ma comunque sempre pro gli altri, noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo continuare ad avere Candiolo nel suo momento migliore, per cui nell'eccellenza, perché per noi la ricerca è la cosa più importante perché poi dalla ricerca si passa alla cura del malato. Nel corso della visita Stefano Allasi ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino le attività di ricerca in corso presso la Fondazione, con particolare attenzione ai progetti su cui il team di circa 300 ricercatori sta lavorando. Quest'anno il progetto vede un particolare interesse per i tumori che insorgono perché le cellule non sono capaci a riparare il loro DNA. Vi sono farmaci per poter bloccare questo tipo di alterazione nella sua funzione di proliferazione, ma ad un certo punto può insorgere una resistenza. In questi casi speriamo che utilizzando questo nuovo tipo di ricerca, noi possiamo offrire al paziente un nuovo tipo di terapia che gli permetta appunto di bloccare di nuovo la crescita tumorale. La ricerca ha un'importanza strategica per affrontare sfide sempre più complesse legate alla salute, ha ricordato Allasia, ed è con questo spirito che il Consiglio regionale e la Fondazione hanno organizzato il varietà di raccoltafondi, il più grande spettacolo e la ricerca, in programma il prossimo 6 dicembre al Teatro Ragazzi, iniziativa a cui hanno fin da subito aderito artisti della musica e dello spettacolo. Per assistere alla serata, che sarà condotta da Cristina Chiabotto e da Walter Rolfo, è necessario prenotarsi all'indirizzo mail partecipa.eventi-cr.piemonte.it e fare una donazione minima di 15 euro.